Ho visto un piccolo cedimento dal punto di vista psicologico della squadra proprio sull'1-1. Tra l'altro un gol a parer mio fin troppo scolastico da prendere, troppo facile, non dobbiamo prendere quei gol, ci dobbiamo lavorare. Preso quel gol, ripeto, fin troppo scolastico, stavamo quasi per combinare con un'altra frittata e lì poi è stato superbo il nostro Joachim Millie. Insomma credo che sia stata senza esagerazione la partita del riscatto. Teniamo conto anche che affrontavamo una squadra importante come organico, sicuramente appartenente alla fascia delle squadre che comunque lotteranno per vincere il campionato o per i play-off. Non solo ma che era in grandissima fiducia in un momento molto 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 felice, squadra importante anche da un punto di vista proprio dei valori fisici. Mi è molto impressionato sotto questo profilo. Quindi ecco tutto questo considerato veramente è stata una grande vittoria. Grazie ragazzi, grazie al mister e grazie anche a qualcuno che ci ha fatto passare qualche giornata un po' di pensieri. Ma insomma questa società poi credo che alla fine abbia deciso per il meglio e abbia dimostrato ancora una volta di essere una società solida e credibile. Presidente invece commentiamo quella che è stata la prodezza di giornata. Gol di Caputo al novantesimo, cioè un gol così al novantesimo in una partita così, è un momento da ricordare? È un momento indelebile, dici bene, di questo campionato. Una prodezza credo tecnicamente superba. Antonio peraltro devo dire ci ha abituato fin dalla prima giornata a Sorrento quando qualcuno lo ricorderà. Anche lì fece un gol clamorosamente bello, devo dire purtroppo inutile. Sta continuando a segnare. Oggi personalmente non mi è dispiaciuto neanche il primo gol perché credo che il primo gol sia stato forse ancora più bello perché poi anche più complicato perché ha fatto sua azione con una difesa dell'Altamura schierata. Quindi Antonio sta confermando il suo valore, il suo talento. È un ragazzo, peraltro io ho la buona abitudine di seguire quasi tutti gli allenamenti durante la settimana ed è un ragazzo che veramente ha dei valori anche durante la settimana, un ragazzo che non dimentichiamo che ha fatto anche delle panchine Antonio Caputo e è riuscito allenandosi seriamente perché è un ragazzo molto serio con grandi valori a riconquistarsi il posto diciamo da titolare. Quindi onore a lui ma oggi veramente onore a tutti i ragazzi. Ma mi piace dire in questo momento che potrebbe anche essere di euforia che dobbiamo domani tutti quanti di nuovo scendere sulla terra e pur volendo e dovendo dimenticare Portici e tuttavia ogni tanto un pensierino a quella partita lo dobbiamo fare tutti perché non accada più quello che è accaduto. Grazie.